In questa playlist cerco di presentare a modo mio che cos'è il pensiero libertario, detto anche anarcho-capitalismo, che si fonda su una teoria economica chiamata la scuola austriaca di economia. Austriaca perché fu fondata alla fine dell'Ottocento nell'Austria dell'impero asburgico. Fu fondata ad opera di Karl Menger e tra i suoi più illustri esponenti c'è von Mises e Hayek che prese anche il premio Nobel per l'economia. Altro importante esponente dell'economia austriaca è Murray Rothbard, il padre dell'anarco-capitalismo e allievo di Rothbard è Hope, che può essere considerato il principale o tra i principali economisti e filosofi politici anarcho-capitalisti viventi. Oltre a cercare di presentare un po' il pensiero libertario e l'economia di scuola austriaca io parlerò anche e soprattutto di qual è stato il mio percorso personale di avvicinamento alle teorie libertarie e qui ho riportato un elenco delle principali letture che mi hanno aiutato a capire il pensiero libertario e l'economia austriaca.